eccoci qua signori tocca fare un altro live è stato imposto dal mio amministratore delegato luca cicchinelli lui si diverte a vedere che non mi piace a faste robe godeteveli finché ci sono sono gli ultimi e lo faccio solo perché siamo il lancio della membership se vi chiedete perché guarda in basso sto giocando ai pokemon ho trovato un sito che mi permette di giocare ai pokemon online bellissimo ho scelto squirtle come primo pokemon se vi dovreste mai io ero bravissimo a giocare il pokemon e quindi adesso sto affrontando brock il primo no non voglio cambiare pokemon anche perché ora tata e quindi non funziona come andiamo signori ok allora se avete delle domande sulla membership il tema è questo il team è pieno a tappo allora cicchinelli mi fa senti per favore baila che ci ha le domande non capiscono allora abbiamo lanciato la membership ok rana nera l'unica membership al mondo che ha un nome che non significa la mazza abbiamo già avvertito per correttezza perché poi ci sono situazioni in tipato ok battuto brock e ci sono situazioni anche antipatiche e che ci cominceranno a essere trichecchi arancioni e cose del genere noi però non siamo responsabili di quello che fanno non è un pigiama una maglietta di quello che fanno gli altri non sono in pigiama sono in forma ok quindi ragazzi sono 16 ore abbiamo l'intervista con dan kennedy l'intervista con alfio bardolla l'intervista con john de martini il training segreto del tpa con il dietro le quinte di come è stata creata e lanciata questa offerta che cacchio nei cappelli più le lezioni col papi lo spoiler box cop injection roy update big luca è assurdo quindi entrate tutti andate su rana nera puntocom chiapatevi il contenuto 347 e squirtle è a livello 13 ok poi se vedete che la cosa è sensata lo è rimanete dentro per tutti i mesi mi aspetto un'incredibile longevità da parte vostra gli unici che non devono entrare sono quelli che vogliono i soldi facili automatici ragazzi lì non possiamo aiutarvi andate da chi vi vende ste robe che versione stai giocare è pokemon blu pokemon blu ho appena battuto quello della prima palestra solo che non mi ricordo più come si fa io avevo il mio team di pokemon era allo blastoise che è l'ultimo quello di squirtle no squirtle poi c'è un altro poi c'è blastoise dragonite new new to ala kazam e un altro ancora un'altra line sotto minaccia cicchina si guarda è convincetelo voi sono uno studente per la member il copi si trova anche a 99 si 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 lo trovi anche a 99 semplicemente per il primo mese poi puoi fare il downgrade ma per 347 prendi tutti i bonus ragazzi sono cose assurde cioè non sono dei giochi davvero cioè adesso non lo sto dicendo così poi puoi fare il downgrade e resti a 99 cioè per l'amor del cielo ma perché ti vuoi perdere i bonus del che abbiamo il primo mese cioè c'è un'intervista di due ore esclusiva con dan kennedy il treno in segreto consiste di fare candidatura al tta no è dietro le quinte del lancio bigone va fatti una console seria manda il link in ufficio per la console seria mi sto cavando gli occhi ma è nintendo ma è un sito qui pokemon dov'è vedete c'è l'allenatore l'ho appena battuto io non c'ha le proprie cose lucrezzi tm 34 contenze tecniche that can be taught to pokemon bello perché ai tempi hanno forse era in italiano anche ok domani l'opera 346 bravi ragazzi allora avete fino al 10 per non perdervi bonus quindi l'idea è questa cioè voi entrate prendete tutto poi se 347 troppo se non vi interessa del delle lezioni mie mensili e di avere accesso a me vi dovrebbe interessare magari se se studiate l'online marketing i soldi così però puoi anche dire tu mi stai sulle palle e ci sono le lezioni dei miei coach a 99 avete comunque lo spoiler box le lezioni dei coach ragazzi sono molto molto belle perché loro a differenza mia non sono dei cazzoni quindi stanno preparando tutte delle cose che sfizioso solito eccetera e lì sarà l'unico posto per adesso facendo stai live perché siamo in lancio e poi ho eliminato io non ho più l'account sto accedendo con quello del mio assistente ok facciamo delle live che sono delle vere proprie consulenze quindi le persone possono intervenire a 347 le persone possono fare delle domande live con la webcam vi registrate da catania veramente molto bella la cosa bardolla collaborata no l'ho intervistato l'intervistato ragazzi appena esce la ps5 te la vai a prendere e ti sbizzarrici quanto vuoi sì ma c'è il gioco dei pokemon che io mi piacciono bravissimo a giocare ok ho appena preso charme nell'altro che lavoro ecco questo è simone vigna quello che dovrebbe lavorare alla membership però ovviamente non c'è avete avrete contatti diretti con il vigna ragazzi non è roba da tutti non è roba da tutte e niente ragazzi c'è sta roba fate un po quello che volete il problema che non ho taglio dove lo prendo dove si prende taglio in pokemon blog e lo ricordate magari anche qui dentro perché adesso poi c'è la grotta ok passaci il tuo account pokemon che ci scama il po ma no ma appena iniziato ma che differenza c'è tra la membri gli altri corsi la membri c'è nel completo bisogna comunque comprare che gli altri cori allora alex qui dobbiamo fare del c'è cosa completa no questa questa domanda non mi voglio incazzare ragazzi è di solito chiesta da una persona che sta cercando il corso definitivo ora per quanto i corsi della big look international siano tutti ad altissimo impatto fighissime c'è non si smette mai di imparare c'è ma secondo voi perché studenti milionari ancora ancora spendono soldi venirsi a formare perché io stesso ancora spendo soldi mi vado a formare perché non si finisce mai perciò la membership è un rilascio continuo di materiale che ha un senso ok la versione avanzata quella da 347 trova la sua espressione particolarmente sulle persone che hanno già un business fanno già qualche soldino e vogliono andare al prossimo livello poi ci sono i corsi specifici cioè in altre parole se io ti devo spiegare come si fa il consulente lì c'è un corso di tipo specifico la membership ha svariati argomenti mensili ma i corsi singoli sono quelli specifici cioè c'è un sacco di roba se no ok quindi vi dovete anche svegliare ok quindi se te ti piace studiare prendi tutto sembra che ci sia donna che sta rientrando eccola qui c'è nulla ma ho legato cicchinelli mi fa vai live e spiega ciao amore mio una live perché il team è pieno a tappo e devo rispondere alle domande e però stavo giocando ai pokemon quindi però ho detto ci vado adesso perché poi magari vado in palestra è bellissimo e come è andato sanzi? si bellissimo vuoi dire ciao? vabbè dopo me lo fai vedere vuoi dire ciao? no no tre ok e cicchinelli ancora esaccordo con te big per forza che non lo hai fatto in offerta fuori da ogni ragione non è che hai fatto una cazzata eh Gabriele me lo chiedo anch'io sono cose che mi chiedo però grande Ciraolo grande big come sempre ma la membership genera punti per Katanga sì da quel che ho capito sì sì comunque contattate ragazzi mi spieghi le ultime cose che hai fatto eh dipende da cosa intendi una delle ultime cose che ho fatto è dormire no neanche ero in dormiveglia ero in dormiveglia e ragazzi a parte gli scherzi rannanera.com oppure chiamate il numero verde un'offerta così non si è mai vista cioè eh se vi interessa il discorso del business online soldi però cioè seri non me cioè impostare robe che diano soldi in modo prevedibile sostenibile con degli investimenti con delle cose serie e se no davvero oh sta venendo giù a picco la borsa finalmente non vedo l'ora non vedo l'ora ma stavi parlando con loro? sì sta venendo giù a picco tutto bellissimo in che stanza sei big cucina 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 vedi? la cucina dice donna aspetta che adesso la inquadriamo guardate in tutta la sua beltade ok cucina siamo in cucina signori stavo mangiando c'erano dei biscottini della dieta i biscottini della dieta non si possono sentire i biscottini ciao big ma su katanga interverrai personalmente oppure limiterai anche gli interventi il prezzo del membership è sempre uguale aumenterà col tempo allora Alice no su allora katanga è la piattaforma sul gruppo exclusive intervengono i miei coach e lo staff io faccio delle live ok di un'ora un'ora e mezza due ore vediamo però non sono live come queste cioè lì insegno proprio qua faccio il cazzone perché non c'ho io Alice ho insegnato penso che se mi segui da un po' lo sai per due anni gratis ci sono persone hanno rilasciato le testimonianze cioè non sono qua a mentirti che hanno fatto un sacco di soldi solo con i miei video gratis e poi hanno comprati i corsi giusto così per sdebitarti cioè strike voglio dire non fossi il consulente più pagato in europa e probabilmente nel todo il mondo quindi facciamo dei live lì però insegno non sono live goliardici quindi carte penna eccetera eccetera sei molto stimabile davvero diventerò tuo studente non appena il meglio il video del momento mi fa piacere che hai deciso di andare in pre-retarne grande eh sì 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 per forza ragazzi sicuramente avrei fatto questa scelta proprio per come il mercato è cambiato vero big e questo è il grande valore cambiare sempre in maniera intelligente l'abbonamento è vincolato per dieci mesi ma anche solo un mese no no anche solo un mese non ci sono vincoli perché non c'è la fregatura ecco per chi guarda non c'è la fregatura c'è proprio così come vi dico voi entrate pagate 3,47 avete accesso subito ai contenuti ok l'intervista di Dan arriva al 10 perché la stanno sottotitolando va bene va bene qui entra qualche giorno perfetto bravi ti guardi tutto il contenuto non solo se smetti di pagare i mesi che hai pagato ti rimangono su Katanga quindi non perdi il contenuto lo so che se però ragazzi abbiamo deciso di far sta roba non so cosa dirvi ok il 10 ottobre ti si rinnova automaticamente se tu non vuoi che si rinnovi c'è un tasto cancella l'abbonamento lo fai prima del 10 magari ottobre ok quindi c'è un cazzo di mese di più addirittura clicchi basta non c'è più Rebill ok ma niente e quindi è molto semplice non vi dovete vincolare io cioè starete dentro perché ragazzi i contenuti e ripeto bisogna studiare continuamente io capisco fare un corso un mese una cosa non tu però ecco è entrato un altro ok è fatta ragazzi è una roba un po' più seria io purtroppo c'è una mancanza di serietà anche sull'aspetto business online volete le rendite i soldi ok cioè moltissimi dei miei studenti sono stati aiutati a farlo io stesso faccio un sacco di soldi online ma c'è un modo giusto di muoversi e c'è un modo non giusto le truffettine non sono giuste per esempio bigone stai perdendo man mano i poteri sull'azienda tra poco ti estrometteranno ragazzi alle 10 di sera che senso alle 10 di sera ti vedo più asciutto big sto facendo la dieta è tre settimane che sono a di sono un figurino ragazzi la membership genera punti che puoi utilizzare per acquistare i nostri corsi digitali in ottemperanza le promesse fatte quando l'abbiamo lanciata vedete che è tutto congruente qua purtroppo non truffiamo io capisco che dovremmo iniziare a farlo anche l'altro giorno dicevo ragazzi secondo me bisogna un po' truffare c'è chi ne dice ma no ma la truffa però stiamo valutando però comunque tanto se iniziamo a truffare ve lo diciamo gli aggiornamenti di rana nera saranno sempre su line marketing argomenti che c'entrano con business business online marketing lead generation funnel cose che funzionano novità ho appena fatto un lancio lo descriviamo ho una discussione con un studente privato ti faccio una lezione di due ore su la protezione patrimoniale eccetera tutti quegli argomenti che possono interessare non finiscono mai ok i quattro bonus li ho subito il primo sì Giuseppe sì ragazzi davvero non c'è l'ingabulo non so come dimostrarlo vi posso far vedere il mio account di Katanga però potreste dire Big è chiaro che tu c'hai tutto che non è neanche vero perché quegli stronzi dello staff fanno i corsi prima di me e si riguardano tranquilli e poi dico Big ti abbiamo dato accesso bravo belli bella sensibilità bravissima e vabbè ok quindi sì Big so che non vuoi che ti chiedano cose in materia ma che consigli per la borsa a lungo termine continuare a investire ogni mese sbattendovene ecco come si fanno i soldi in borsa a lungo termine lo dice anche Warren Buffett ok perfetto sono d'accordo te lo trovo nel gruppo grande ma in che senso che non posso più farne parte se chiudo l'abbonamento se poi due mesi dopo o voglio riscrivermi mi dici me la prendo in der cool sì Matteo ok cioè se voi ecco questo è importante giusto Matteo perché va rispiegato ok in realtà c'è scritto si potrebbe leggere la 6 page con più attenzione però è una cosa strana e quindi giustamente la spiego tu entri il primo mese paghi 3,47 ti trovi 16 ore di contenuto e studi se tu annulli l'abbonamento per il prossimo mese cosa che non vi conviene ma abbiate fede ok nel papi ti rimane questo primo mese in memoria nella piattaforma e tu puoi consultare il corso di Dan per dire un'intervista di Alfio anche tra 6 mesi ma non ricevi nuovo contenuto se la vuoi se la vuoi riiniziare per essere membro non puoi e ti perdi i contenuti quindi finché state dentro noi vi roghiamo i contenuti il discorso ragazzi è un discorso anche aziendale cioè non possiamo servire della gente gratis troppo perché c'è c'è un costo quando voi vi loggate sulla piattaforma c'è c'è un costo di programmazione c'è un costo di informazioni ci sono dei soldi che si muovono cioè è un business le robe bisogna pagarle è normale questa cosa qua anche il mantenimento di Katanga non è una cazzo di piattaformina così se vi faccio vedere il backhand di Katanga svenite due volte quindi non la potete più riattivare e non la riattiverete quindi la dovete lasciare attiva potete fare un downgrade a 99 fate qualche mese a 99 rifate un upgrade però se uscite uscite se entrate una persona io ho delle membership 4 anni che le pago perché comunque arriva la mail c'è il video non si sa mai ci sono le interviste soprattutto una roba così esclusiva come questa cioè Bigo ha cercato in tutti i modi il video su YouTube della tua rissa in Inghilterra ma non c'è verso visto che sul libro hai scritto di averlo sullo smartphone non c'è più è stato eliminato dalle piattaforme di sharing non c'è su YouTube ho trovato anche le email che avevo mandato a mio papà ti posso video rissa e non va più il link se io scrivo sul mio gmail video rissa trovo guarda il marco per esempio l'ho inviato a un mio amico preparati mandare un bcctv il video cctv ciao è qui è qui ma non va il link io l'avevo messo su quelle robe tipo rapid share se ho voglia di fare ma non ho neanche idea su chi iniziare va bene sì Bigone 99 cosa comprende comprende due lezioni al mese una sul copywriting e l'altra sugli aspetti tecnici dell'online marketing quindi gli ads i funnel e queste cose quali l'optim page probabilmente vi faranno costruire qualche business da zero cioè c'è tanta roba e non sono lezioncine così cioè chi vuole imparare far più soldi farli bene si iscriva alla membership in generale e compri i nostri percorsi se non vi interessa non lo fate se entriamo a 347 poi facciamo un downgrade si può rifare l'upgrade sì furbo eh così ti continuiamo a tenere dentro così è un fatto di look cioè voi come la prendereste se avessi una membership o delle robe poco profittevoli io cioè non avrebbe senso fate mente locale cioè se io regalassi la roba non sarei credibile non so se perché a volte gra gra quindi se entriamo quindi è possibile fare un downgrade poi upgrade pensavo sì sì Matteo puoi fare il downgrade e poi l'upgrade così continui e lo creiamo almeno i 99 eh dai poi i due venditori così cioè ma poi ma poi io stesso cioè ragazzi io li metto nella borsa non è che allora sperpero così cioè sono uno morigerato mamma mia peraltro vabbè cioè le sorprese non sono proprio io entrerei ci sono tante cose da scoprire tanti mondi da scoprire Stripe mi adora vabbè domande ragazzi dai lo sapete che non mi piace star like è una perdita di tempo se avete delle domande sull'offerta altra cosa 800 303 666 c'è il numero verde i venditori sono pieni a tappo perché stanno vendendo la qualsiasi perciò io ho passato un agosto ragazzi da fuori di testa tra studenti privati che hanno avuto la brillantissima idea di dire no perché possiamo venire ad agosto 59 gradi peraltro la sua temperatura è calata di brutto tra dentista che dobbiamo fare tutto un lavoro tra poco avrò un sorriso d'attore di Hollywood costosissimo tra catechismo sto facendo catechismo ok poi studi consulenze registrazioni cose che voi non sapete neanche robe turche ho il tempo di respirare pig non ti entro più nero da se no non lo faccio più è giusto bigona ma fai bene eh ma hai capito ma poi anche la trasparenza uno sta lì a dire che è chissà che cosa perché devo lucrare lo stesso bisogna mantenere oltre che mantenere bisogna anche risparmiare e investire qui non è un discorso di diamo mica a pari signore dobbiamo essere molto ma molto ma molto sopra ripeto è una questione di credibilità allora adesso ho battuto per chi non lo sa sta giocando ai pokemon però non ho capito come eh no scusa qui non si può passare ah no c'è la grotta però qualcuno si ricorda dove si prende flash che non è flash come lo chiamate voi sapete che quello che voi chiamate flash in realtà state dicendo carne più al sangue che al sangue flash è un modo di cottura della carne si va di qui vabbè io batto questa ok poi non ti portami 25 carature email 12 con questione non riusciamo a chiudere al telefono non ci rispondo non ci devo pensare Giuseppe prendi VTA prendi davvero VTA per esempio ah no che non potete prendere VTA VTA è chiuso che cazzo ti dico di prendere VTA è anche agosto ed è anche leggermente per io senza inventare scusa fine dei corsi ti asserite anche solo la voglia e la fame di lucro sei già a metà dell'opera grande big ragazzi qua è gente affamata di lucro quindi a gennaio cosa acquistiamo ma non vi preoccupate voi cominciate ad entrare nella cavolo di me avete più contenuto per meno soldi oggi dal parrucchiere mi fa ma cosa hai fatto quest'estate io nulla sono stato a casa perché non posso dirgli sto lavorando per diventare multimilionario cosa mi consigli di rispondere in queste occasioni no no rispondere è quella gli dici sto lavorando per diventare multimilionario e poi lo guardi fisso lui avrà un momento dove fa è imbarazzato e fa eh cioè tipo ti guardano per dire no ma davvero però in realtà si è reso conto che tu sei serio cioè e ti dirà qualcosa ah complimenti no prego di qua e sei convinto bigone non hai tempo di respirare adesso mi sa che stai meglio due anni fa quando facci il live dalla pitchbarda non mi dire niente per favore ciao big grande gabri sono al secondo giro del tuo libro sono sicuro che tuo papà da qualche parte la sua sia orgoglioso di te ne sono convinto anch'io farei un video farei un video su Antonio Conte come è stato truffato per 30 milioni no adesso si assume un esperto di costruzione di un sito internet sì sarebbe come dire un esperto di app o un esperto di ansa nel senso che esci e proprio a frotte e ragazzi se vuoi rifare il sito internet e magari sei tu la persona giusta rifarlo ci fai Giuseppe e che prendo prendo non ho capito mi da passire passare per non lo facente quando in realtà sto facendo anche più ma fregatene delle delle opinioni altrui ave big maestro io la membership ce l'ho ieri le prime due ore stamattina è iniziato alle 4 mio figlio di 6 anni chiede ancora se l'hai ticket è morto ha detto che quando è grande vuole studiare da te grandissimo e altro riguardo la ricompensa dopo due mesi di membership di chi tipologia sono a parte il fatto che non c'è nessun tipo di ricompensa non è che tu entri alla membership e fai un favore al massimo lo sto facendo io a te primo ciò nonostante ci potrebbero essere dei bonus ma il bonus ragazzi è semplicemente un contenuto mi spiego se io faccio un incontro interessante o c'è un argomento ricorrente per esempio per me le mie consulenze private di persone che vengono a Dubai o quelle che faccio da remoto o le discussioni che ho con altri imprenditori gente che lucra identifico dei pattern guardo la soluzione cose che mi sono capitate così e allora magari può diventare un inserto un bonus oppure qualche interesse interessante ma non è una ricompensa bisogna subito mettere in chiaro le cose perché capisco però non è che si possono regalare tutte le robe non è bene dirlo perché con l'aria che se entro mi fai uscire il prossimo ci saranno 20 tanti anni la prima cosa fantastica che hai detto da anni è la spiegazione di rispondere che stiamo studiando per diventare multimilionari aggiungere a tutti un esperto in materia no non so chiedevo se potresti aggiungere a tutti un esperto in materia perché no però poi mi chiede informazioni non so dirò paura che mi faccia che la rimane a livello incontro ma no ma ti ma fottitene ci sto lavorando e ci sto lavorando per diventare ricco se ti fanno qualche battuta e dici tu sei ricco allora cosa parli tu hai esperienza di non esserlo non puoi essere spaventato qui mamma mia il mio squirtle è a livello 14 is about to use PJ cominciano ad avere i pokemon evoluti Luca mi ha contattato Edoardo lo ricontatterò e se riesco spiegherò delle cose che da due anni devo dirti quasi più delle rane nere spero non ti arrebberai probabilmente stupirai o magari nulla di ciò scrivo adesso perché poi o mi mandi a quel paese un giorno forse ci vediamo a Dubai con l'occasione ti dico grazie di cuore per quel che mi hai dato finora non immagini chissà magari un giorno te lo racconterò di persona grazie ancora avanti così sei il meglio ciao Cri molto bene felice di averti mi sembra di capire aiutato molto bene riferisci pure a Edoardo poi se c'è può ci possiamo vedere a Dubai quello che è comunque un caldissimo e grandissimo abbraccio brava grande e intanto Squirtle non ha attaccato PJ perché ha fallito sì ma io sto caldo qui però ah no perché abbiamo un problema di drippa della cucina qua a Dubai le ville sono tutte nello stesso modo abbiamo le infiltrazioni state di buono posso accendere un po' l'aria condizionata qui mi amore posso accendere l'aria condizionata qui soggiorno vai io a film Grecia freddo e allora devo chiedere ogni volta e domani cheat day proprio così alla brutta per il tratto del club bravo siete gente seria ragazzi appena ricevuto un'email da Big Luca e se no via Big Luca a vedere che Pokémon sa Pokémon blu ciao Big fino a quando hai continuato a reinvestire con i set public e quando hai iniziato a tenere con la tasca suggerimenti su quanto perciò tu hai tenersi in tasca adesso i prezzi sono aumentati molto perciò un po' cambiata la solfa e finché non sei in profitto reinvesti reinvesti tutto in quel frangente no ma è accesa l'aria condizionata non è accesa in questo specifico locale ma c'è negli altri perché questo rimane fresco perché prende l'aria condizionata dal soggiorno che è di là e dalle camere di là e poi perché donna ha freddo e se io metto l'aria condizionata qui a bomba io la tengo a 21 gradi ormai mio figlio quando scambia le carte poco la prima domanda che fa è che budget hai quando hai assunto il tuo assistente su che base l'hai pagato inizialmente se ancora non avevi diversi corsi da vendere no beh ma mi dava una mano anche con la mia vita personale eccetera quindi non è solo il fan gli autori il customer service mi dà il permesso di tatuarmi il logo di rana nera club e non so se te lo do insomma spero tu almeno ti sia iscritto tatuatelo poi manda la foto mamma mia oggi ho aperto ho aperto tutto in borsa e sta andando giù tutto a picco mamma mia signor 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 come faremo si vede il volto velato di lacrime vabbè altre domande su rana nera ragazzi magari se condividete qui la storia il live così almeno gli altri il logo andrebbe tatuato sotto il rolex come the skulls non so cosa sia the skulls non ce l'ho non l'ho mai comprato c'è ancora il trasferimento automatico ogni singolo mese mi arriva l'email da staccacchio di banca dove ho il conto che si lamenta perché c'è il prerivo automatico dal broker che io ho disdetto un anno fa guardate voi le situazioni ogni mese mi chargiano per questa cosa qua fai le maglie rana nera e vendi le minima 100 euro altro che su prima non ti preoccuparti abbi fede rana nera chi consigli per la borsa basta questo chi consigli non ce la faccio più ragazzi e chi e cosa e perché e di qua e di là vi ho già dato io i consigli ho già detto i nomi negli altri live andatevele a ripescare non posso sempre dirvi le robe studiate sei uno show mannato metti la pubblicità nei tuoi show che ti fai soldi veri altro che lucrare cercando di vendere disperatamente corsi fuffa se Matteo di paglia devo dire che sono d'accordo anch'io con te adesso puoi andare non ce l'ho la pubblicità l'abbiamo tolta così le altre persone non ci possono fare pubblicità su youtube comunque apprezzo il tuo commento essendo troppo intelligente non l'ho compreso fino in fondo però magari tra due o tre anni non si sa mai la tua intervista su youtube parli di aver sconfitto attacchi di panico istimile ma nel tuo libro non spieghi in quale maniera hai combattuto il tutto sarebbe interessante non è vero non ce l'ho da combattere mi sono evoluto io sono andati via da soli è proprio tutto descritto il problema è che non c'è il metto perché il panico l'ansia non esiste cioè sono dei feedback mechanism come la depressione è una continua comparazione della realtà a una fantasia di cui tu sei innamorato risolta questa è andata via avendo preso più fiducia in me stesso e avendo avuto dei risultati ecco che si placca l'ansia e avventa la confidence a marzo sarò a Dubai cosa devo fare per avere una consulenza con te un mutuo sarebbe una cosa buona io non so a marzo di che anno che anno siamo ah l'anno non lo so devi contattare l'ufficio ufficio chiocciola biglookinternational.com oppure il numero verde nella membership ci sono anche informazioni puramente tecniche sì ci sono vorrei la maglia signori a proprio inquattere non ti preoccupare e quanto sei disposto a pagarla questa maglia ah signor ragazzi non temporeggiate io lo so che siete lì che dano ma secondo me secondo me ragazzi cioè andate a prendervi le informazioni da chi ce le ha e da chi ha provato in diverse nicchie e nel tempo di avere informazione esperienza che fa performare la gente non gli scappati di casa perché se no diventerete degli scappati di casa io devo capire perché c'è il proverbio che chi va con lo zoppo impara a zoppicare però online pensate che non sia vero i bonus con Bartola e De Martini sono spettacolari lo so cioè le interviste ragazzi sono dei veri e propri corsi con informazioni che non so quella di John De Martini è assurda sta ricevendo dei feedback pensate che è un uomo con 50 milioni di non lo dovevo dire in patrimonio che genera 2 milioni di dollari passivi netti all'anno ed è il 4% del suo patrimonio John De Martini io magari lo ascolterei puoi parlare di quella da 99 allora ragazzi rannanera.com ci ha spiegato tutto comunque in quella da 99 abbiamo un live al mese in più hai una lezione Q&A sul copywriting da parte di uno dei miei coach personale interno della Big Look International e hai anche la lezione Q&A con Caloni di Roy Up to the Update ok quindi Facebook Ads Google AdWords Funnel Autoresponditori parte tecnica come impostare la roba eccetera sia lezione che Q&A e poi hai 40 minuti di spoiler box cioè 40 minuti di un corso a caso che ti viene fatto vedere 40 minuti metti che c'è il protocollo che è nel di noi ti mettiamo 40 minuti al mese di un corso specifico eccetera 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 le spiegazioni tecniche prescindono dagli strumenti sì nel senso che un funnel lo puoi usare da varie piattaforme sì no vive nello yacht più lussuoso del mondo si chiama The World lui la sua casa è su uno yacht che si muove va in città diverse quindi lui si sveglia in città diverse in posti diversi e prende sempre l'aereo da un posto diverso vive su uno yacht si chiama The World il mondo The World ha vissuto la Trump Tower cioè lui è un tipo agganciatissimo uno di consulente di quelli pazzeschi John De Martini Martini cioè se avete anche per lui dissolve il metodo De Martini è un metodo scientifico peraltro quindi non è uno che sia improvvisato fidatevi rananera.com ragazzi entrate finché ce n'è il 10 togliamo tutti i bonus e partiamo ho capito ragazzi se però nell'application mi chiedete una roba che pazzesco su che base bisognerebbe pagare chi si occupa di customer service se si ha solo un videocorso e qualche consulenza in circolo uno stipendio fisso stipendio fisso se non hai allora la traiettoria ah peraltro questo non so se dovrei dirvelo ma io ve lo dico lo stesso nei prossimi mesi ci sarà una lezione col papi nella membership sulla delega chi non se la guarda ha dei problemi vi dico solo questo cosa delegare come farlo come compensare quali attività anche quando crescete avrete quei problemi là all'inizio puoi fare uno stipendio fisso immagino che dopo i 40 minuti di spoiler box non ci sarà assolutamente una città per acquistare no no c'è proprio da prima e vabbè ognuno deve tirare avanti la baracca che altro materiale consigli di martini oltre un'intervista tutto il materiale di di martini ottimo l'ho appena visto è una città sull'acqua se john de martini vive lì vive su uno yacht a me per esempio non piacerebbe però però è scrive un sacco di cose veramente veramente interessanti squirtle no come l'attacco scusate sto giocando in pokemon sto affrontando un pj use bubble è una cacchia pj use hand attack no send attack mi confonde squirto squirrel squirrel si dovrebbe pronunciare squirrel altre domande su rana nera ragazzi comunque sta andando a ruba entrate ed entrate a far parte di una realtà di certi versi se no cercate la roba gratis tanto io sono abbastanza po io sono abbastanza a posto voi non so se siete a posto vedete un attimo you're mean yes i am baby allora dovrei adesso andare arrivato indietro al centro pokemon perché ho i pokemon che peraltro io faccio sempre sapete qual è ah guardate anche qui la mia tecnica nel giocare ai pokemon la dice lunga io ho un pokemon fortissimo high ticket tutti gli altri però io punto su uno e faccio quello che voglio chiamare il focus su quello ma possiamo usare i miei punti di katanga per abbonarmi alla membership no devi cagarci fuori dei soldi soldi vogliamo tutti soldi 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 money 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 we don't need your money money but we like it quando lo devi incontrare ci devi andare con l'elicottero del demartini se io non ho mai preso l'elicottero vi interesserà sapere che quando sono andato a filmare cioè io ero a new york per farmi gli affari miei dovevo andare era un ponte forse con un mastermind sono venuti quelli della crew per girare l'infomercial quello che ha venduto ha aiutato a vendere l'evento cioè quello che l'ha promosso io non ero stato bene per tutta una serie di motivi che non vi posso dire e avevamo prenotato il giro in elicottero con loro per filmare così ma non mi davano un rimborso ho pagato tipo 2000 dollari 1000 dollari non mi ricordo e allora ha detto ragazzi andate voi e quindi loro sono andati in giro in elicottero e si sono tutti innamorati di questa pilota donna che pare fosse bellissima io stavo male ero nella suite del Mandarin Oriental di Manhattan 3000 dollari a notte buttati via ecco quella era solo per l'infomercial per esempio vedete la differenza di cose perché andate nella suite per filmare il problema è che sono abituato a Dubai non riesco ad abbonarmi non riesco non riesco riesci a abbonarci io non ho capito Ernesto se non riesci ad abbonarti vai su rananera.com io che sono su facebook si sono obbligato dal mio CEO solo perché siamo in lancio faccio qualche live perché le domande sono tante la curiosità è molta è quindi uno dei modi più efficienti di rispondere live ma poi mi eclisso e sarò raggiungibile solo all'interno della membership c'è chi non è d'accordo con questa decisione non mi interessa hai un consiglio su come gestire mentalmente ed emozionalmente il momento iniziale di incertezza di un business si nella membership tutto spiegato leggi per bene big aggiungendo i bonus di rana nera a quelli di babuini c'è da rimanere stupiti di come tutto si collega in una squadra di pensiero al top si ragazzi c'è bisogno di info che funzionano e continua ripetizione da diverse angolature non la finirete con un mese di membership ve lo dico prima che entrate non la finirete con un continuo studio persone che investono di più con la big look international guarda caso sono quelli che fanno più soldi perché perché è la storia infinita il business cioè non l'ho non l'ho stabilito io diciamo amore mio no comincio a fare un lievemente freschino eravamo a 26 e 5 e l'ha aspetto si anche l'ho aspetto io no in qualche modo l'avrei aspetto perché mi scena non ha portato la perché c'è lì come il letto dove l'è non entra in camera quando tu sei nel letto è vero è entrata già delle volte bello perché quando vede che ci sono diventa tutta alla fine però hai fatto la membership sul frontend non è un frontend Christian non è un frontend è un backend che la promuovo persone che già ho se tu avessi preso babbuini Christian entrando in quella della 99 si accumono punti grazie a Big Go si si può fare anche sul frontend ma a certe condizioni che erano spiegate in babbuini no non lo voglio cambiare il pokemon signori entrando in quella della 99 si accumulano punti grazie a Big Go si si accumulano punti comunque cioè se voi volete fare business e imparare non dovreste avere sti dubbi cioè entrate basta ve lo dico col cuore cioè non è se non ci fossero punti di entrare lo stesso cioè qua bisogna imparare bisogna fare business bisogna imparare delle robe non è uno scherzo non si può di nuovo perché non ci sono i punti allora magari pensa quando la facciamo sta roba io mi sa che no mi si sta scaricando no se mi si scarica perdo i pokemon non scherziamo cosa faccio fai qualcosa mi porti un caricabatterie mi si stanno scaricando i pokemon bello far vedere di essere la femmina alfa perché sono live ti perdono ti perdono big fai diventare michelle milionaria penso che non sia possibile non è possibile non è possibile si diventa milionaria ci lascia come facciamo allora no non lo voglio cambiare se uno che non ti conosce vuole entrare può se uno che non ti conosce vuole entrare può se se vuoi fare il tecnico a me va bene però non so quanto quanto convenga insomma last warning se però non fare più come farei a farti conoscere da un nuovo pubblico tu e lei convertono molto Alessio non sai se convertono molto non hai accesso ai dati del becchè non è che sta roba ragazzi ciò che voi pensate di sapere può essere sbagliata queste sono alcune informazioni che condividerò nella condivido nei corsi nella membership eccetera cioè si fa anche un compendio numerico innanzitutto ci sono gli ads che girano ma poi c'è anche un discorso di time management e di valore buonanotte buonanotte mi fai a creare sempre nuovi contenuti per creare nuovi corsi ogni volta cosa ti conferisce la capacità di fare il fatto che studi sempre è un'attitudine da tutti il fatto che faccio esperienza studio mi faccio un culo così applico le cose poi posso insegnarle però non insegno cose che non so come definire un front end una cosa che possono comprare tutti per esempio giusto così si chiama lancio il problema della membership front end è un problema di ads ragazzi sveglia non funziona puntare gli ads una membership di front end perché pagate molto di più il traffico di quello che vi dà la membership anche calcolata con i mesi il churn rate un software lo può fare perché ha un churn rate molto basso una membership di marketing no ma se voi mettete dentro mille persone che vi hanno già dato mille euro che sono nel database e ci avete fatto un milione con i corsi a fronte poi gli vendete la membership e avete 100k al mese potete prendere 30 di quei k a fare ads su quelli nuovi ma vi state finanziando con i corsi venduti a fronte babbuini ok perché ho detto questa cosa la potevo tenermela per me voglio dire giustamente la gente paga perché riveli queste cose è frontend intanto sto battendo un caterpie bigone la serie più milionario le continuerai sì sì ci sono i video su youtube ah già che qua si sta scaricando mentre io rivelo cose evidentemente per cui bisognerebbe pagare mi si sta scaricando il computer quindi ragazzi sveglia amazon donna compra compra come una pazza su amazon ma arrivano i rimborsi delle cose che forse compra 5 volte dico io allora allora aspetta un attimo lavori ancora nel mercato americano oggi ho riguardato l'intervista a francisi dopo aver guardato De Martini ricapisco cose ancora più impressionanti tanta tanta roba tutto ciò che mettiamo fuori tanta roba ragazzi avete dubbi allora guarda te se mi devo portare io da solo le robe una persona del mio livello guardate un po' signore che se no si scarica tutto allora appena svelato grano segreto il marketing big ma che ti sta succedendo deve stare bene zitto è un mondo difficile ok mondo molto difficile vabbè ragazzi non so veramente che dirvi eccoci qua connect appunto domande lavori ancora allora rananera.com non so cosa abbiamo ancora da dirci sinceramente mi sembra l'offerta mi sembra piuttosto evidente entrate entro il 10 ah un'altra cosa che mi fate un po' morire alcuni di voi no perché entro dopo il 10 cioè io non voglio essere cattivo ragazzi se proprio non avete i soldi fate quello che volete però i soldini si trovano per le cosine cioè i soldini poi però per metterli nel bitcoin li abbiamo trovati i soldini per fare le campagne per truffare la gente con i prodottini li troviamo per dare valore al mercato con dei prodotti che la gente richiede li avete trovati per fare poi non c'è più ok per fare il trading speculativo li abbiamo trovati per comprare i corsi di affiliation black e sono saltati fuori ma non c'è non è capitato ok cioè basta e entrare dopo il 10 cioè vuol dire prendere parte il fatto che vabbè i contenuti mensili dovrebbero costare molto di più però abbiamo fatto un prezzo ragionevole ma ci sono i bonus in meno c'è la membership c'è anche dopo il 10 ma perdete i bonus perché dovreste farlo cioè sono cose illogiche non io non le capisco ok non si capiscono perciò entrate ah adesso mamma mia vai mamma mia questo si giocare i pokemon col monitor grande Squirtle uses bubble ok quindi non so veramente come come farvele capire certe cose e Squirtle è arrivato a livello 15 mentre mentre voi siete lì Squirtle learned water gun water gun amazing ok altre cose su offerte membership materiali la membership ha dato anche chi sta ancora raccogliendo le idee su come procedere nel mondo dell'online marketing è troppo avanzata Davide allora quella da 99 è ottima per chi all'inizio cose tecniche è molto molto bella quella avanzata da 347 obiettivamente è per chi a mio parere a mio giudizio ha delle problematiche di chi già guadagna non una barca di soldi però comunque ha già magari una piccola attività e ha tutta una serie di problematiche che vuol sapere di cui vuol sapere le soluzioni le strategie cose un po' avanzate sfiziose così però nulla ti vieta di studiare cose che ti serviranno anche nel futuro quindi il mio consiglio per te se tu stai ancora raccogliendo le idee è la seguente cosa cioè è proprio un test tu entri il primo mese a 347 con i bonus e vedi già la lezione col papi che è la mia lezione che è la parte più importante ok di tutta la membership alla lezione che io faccio mensilmente ragazzi non si scherza con quelle cose lì guardi e dici ok penso che ce la posso fare mi sembra appropriato intelligente stare membro a 347 e rimani oppure dici faccio il downgrade oppure se non te ne frega niente non è per te disdici proprio cioè non non c'è un rischio diciamo ah no sto giocando il pokemon ragazzi io ho spostato il pagamento alla finanza tedesca per fare la membership non me ne frega una mazza male che vale si avvelenano grande grande Simone grande Stefano farete mai un corso di copywriting è un corso di copywriting non ne ho la minima idea abbiamo la lezione di copy abbiamo la lezione di copy nella membership che si chiama copy injection che parla di copywriting per esempio lezione su copy di questo lancio sul webinar di mentecati o sulle email i post le leve copy usato da nostri studenti bastasu prego prego davide ah no mi ha abbelenato squirrel squirrel boi 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 yes e l'ho battuto anche questo solo che devo tornare da dal centro pokemon altre domande squirtle fint perché è bello perché dicono è svenuto qui non penso che nella versione italiana dicessero è svenuto ragazzi altra roba siccome dai stila e poi non li faccio assolutamente più già ripeto mi hanno detto fai il live perché dai dopo il 10 ragazzi dimenticate comunque vanno rimossi i social media io lo continuo a ripetere un malissimo è una cosa che fa malissimo va bene ragazzi io devo giocare ai pokemon ok fate quello che volete rannanera.com membership entrate state dentro contenuti mensili ogni mese supporto informazioni interessanti sfiziose le novità ah poi non è male se ci pensate avere le novità le lezioni da chi è al forefront nel forefront di questa industria cioè chi è il primo ok perché io ho mai capito perché dovreste andare a cercare informazioni da gente che non ha né arte né parte o gente che fa finta di avere arte e parte ma non ce l'ha e voi lo sapete e dovete star male perché dite no vabbè ma però in realtà mi sembra che c'è e c'è tutta sta sta roba qui cioè se i leader di mercato vengono da me e se i risultati sono quelli che vedete cioè risultati che nessuno si spiega ancora oggi parlavo dei miei con dei milionari e cioè io non ci penserei due volte allora ok e lo so che mancavano sti live ragazzi ignazio non ho letto non è che non ti rispondo perché mi stai sulle pelotas è che non non ho letto speed fell use bubble dai 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 widow 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 togliamolo di mezzo e vai mamma mia comunque ricordatevi quando giocate ai pokemon scegliete sempre squirtle perché l'acqua è super efficace contro il fuoco il giro è super efficace contro l'erba eh 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 cacuna cazzo bubble ok altre cose mamma mia bubble non vedo l'ora di avere uno dei miei pokemon preferiti alla kazam vabbè quindi altre non ci sono altre curiosità tanto stiamo già entrando tutti quindi attivamente io non ne capisco il senso bello perché abbiamo avuto giusto qua è normale dobbiamo dobbiamo rilasciare voi capite il motivo giusto perché dobbiamo dare delle cose di cui parlare quindi abbiamo una membership a 99 e una a 347 secondo voi normalmente voi direste entrano a 99 qui abbiamo avuto tipo tre acquisti a 99 e tre upgrade a 347 quindi eh numericamente laddove le voci si dovessero espandere in questa industria tutta ne vero solo tra i 47 e tanti ok e tanti veri paganti ok basta no lo dico perché purtroppo sono verità cioè io le capisco queste cose ma come paganti ma come sarei eh sì come vedi il mare è relazionato alla politica big te ne sei mai occupato sì faccio coaching a un consulente politico io non posso non so comunque è anche nel gruppo elitkatanghese e non solo però lui è la prima persona che mi salta mi salta in mente si occupa di politica consulenza politica e potere secondo me aiutano molto le persone che poi da questi suoi prodotti big sarà che sono un attivo digitale ma rimuovere i social è quasi impossibile per me è perché ehm perdi tempo ragazzi sui social media si perde tempo allora e ci si qual è il problema perché tu puoi perdere tempo cioè io adesso sto giocando ai pokemon per esempio ok adesso in realtà ho aggiornato strano e mi piace quello che viene io ho appena battuto cacuna con squirtle ok e allora tu mi dici cosa stai e siamo a livello 16 di squirtle tu mi dici cosa stai facendo big io ti dico sto perdendo del tempo mi sto rilassando no cioè sto giocando va bene il problema dei social che una persona si convince di essere produttiva cioè la persona per esempio voi siete qua a seguire il live vi cominciate di aver fatto qualcosa ma non avete fatto qualcosa ok poi c'è molta negatività sui social si perde tantissimo tempo convincendosi invece di essere produttivi e non solo dopo un po' non ve ne accorgete perciò io non le faccio queste cose sono robe da gente normale quindi non ho i social ripeto c'è un lancio c'è un qualcosa qualche live va bene ma non ho un account me lo deve prestare il mio assistente non ho instagram non vedo instagram non vedo facebook non vedo la pagina di facebook non vedo twitter non vedo tiktok come livello 16 si evolve va bene ah il livello no no non dirmi non dirmi che mi sta si sta per evolvere squirtle per favore allora vediamo pokemon di qua mamma mia big sarà eh esatto capito c'è i social usarli per lavoro va bene ma non li devi usare tu li fai usare al tuo team noi usiamo i social media come big luca international mi sembra abbastanza chiaro svagarsi giocare ai videogiochi ti abbassa il mindset che cazzo vuol dire ti abbassa il mindset dipende cosa vuol dire mindset non ti può abbassare la produttività in quel momento nel mindset defeated big catcher quindi squirtle is evolving no signori squirtle is evolving grande vero si evolveva adesso diventa ah non mi ricordo neanche mamma mia war turtle war turtle meh che è diventato war turtle mamma mia bellissimo adesso vado a rompere il coglione anche questa qui rananera.com big ho cancellato facebook e insta ho un account nuovo facebook senza amici solo per seguire il gruppo dei libretti se cioè se sei membro di un gruppo che ti dà che è interessante che ti serve capisco ti fai un account già va bene nel senso capisco però ti limiti a quello oppure ti dai degli orari durante il giorno però il problema di essere mediaticamente esposti è che una non c'ha voglia di leggere le stronzate i tag gli altri secondo me per esempio chi vede cioè se voi avete un business online ragazzi e guardate i commenti sotto gli ads per chi guarda questa live se voi andate benino per esempio fate già dei soldini non sapete come strutturarvi come delegare cosa c'è questo per esempio queste sono esattamente le informazioni sono nella membership come evolversi anche come far passare business online perché a un certo punto non è neanche il marketing va bene far più soldi però ci sono persone ah ecco nidoran questo è un pokemon che io dovrei prendere perché poi l'evoluzione la terza evoluzione è uno dei pokemon più forti nido king e nido queen io ho nido queen forse o nido king cioè non potete andare avanti ancora ci sono anche le email io ho persone che mi dicono perché io guardo le email dell'ufficio cioè ma secondo me voi avete il cervello scollegato io le email dell'ufficio della big look non so neanche dove sono per carità di dio me lo evito molto volentieri ho battuto l'ass eccoci qua bam ok comunque cosa fate signori state lucrando come vanno tutti i vari giochini bella vita senza social e big go ti sei fatto il telefono stile old ti consiglio motorola v8 in ora 24 grazie l'avevo versione lusso l'ho riacceso funziona ancora vecchio cazzo non ho ancora avevo detto di farlo idea che mi è stata copiata tu sai chi sei però io non l'ho fatto nel senso che no ho ancora allora vi dico perché ho ancora lo smartphone perché per youtube cioè io consumo una quantità di youtube al giorno che è impressionante poi non potrei giocare ai pokemon sull'account vecchio è arrivata tante di quella monnezza e negatività che mi sono stufato l'account dei libretti riguarda il suo mio business se non ho foto di amici registrati ok sì sì cioè va bene bisogna bisogna evolversi a un certo punto bisogna smetterla di perdere te cioè dai chi c'è su feed ragazzi gente che perde tempo gente che perde tempo e crede di essere rilevante cioè uno che fa un post per esempio io non ho mai capito perché la gente commenta sotto i post è una cosa che io non ho mai capito con roba se c'è capito se su facebook tu metti la foto di una donna nuda e uno fa una battuta cioè ci può anche stare ma non robe serie cioè non si discute di roba serie perché non è serio su facebook grande Baldini tutto il TTA ma è possibile che io ho già visto 3-4 nomi del TTA ma voi non stavate vendendo? è normale è normale che poi non si lucra io ragazzi voglio i 30 i 40 i 50 gli 80 K alla volta bundle che mi devo comprare la console nuova dei pokemon allora metapod bubble io sto aspettando un lavoro da un team da qualche mese per essere pronto a lanciare il business è un periodo di incertezza su facebook ho messo l'estensione che non ti elimina da un page cioè che non se se si no ce l'avevo anch'io con l'estensione ma fa niente perché hai comunque facebook ti possono comunque taggare e poi comunque vedere la baccheca poi quello è già qualcosa anch'io l'ho messo però no 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 sto meglio poi bellissimo dopo un po' ripeto anche c'è il discorso mi dicono ma perché bisogna restare informati ma non si rimane informati su facebook si rimane informati leggendo informandosi così ma non su facebook uno non si informa su facebook ragazzi se facebook è la vostra fonte di informazioni è un problema cioè è veramente problematico anche perché lo fanno tutti quindi fare le cose che fanno tutti non è una roba intelligente mamma mia sono fortissimo cioè voglio dirvi squirrel no no adesso è wood turtle wood turtle bigone ieri sono uscito e lo usato è stato bellissimo nei facebook né niente mi guardano tutti strani e mi dicevano che telefono è quello lì piccolissimo vi ricordo il periodo di cosa ne pensi di cinema ma mi chiedono ancora e cosa ne pensi di quella ragazzi cioè non c'è da pensare vabbè ai tempi è ma vi ricordate quando in Italia nessuno sapeva chi fosse Samu cioè vi ricordate quei no la tipa con Jigglypuff il Pokemon Jigglypuff Jigglypuff è pure forte quando si evolve è infatti pound minchia ti sparo un vuoto cazzo sbam mi ti sbagli si rimane informati solo da Big Look International no ma cioè bisogna leggere bisogna investire io passo tutto il mio giorno a studiare cioè quando non sto lavorando o consulenziando o o facendo riunioni strategiche con il mio team cioè io studio dove pensate che vengano le info cioè in prima battuta dallo studio perché sennò non sai neanche che esistono però non è una roba intelligente stare online a vedere cioè Dio ce ne scampi poi tutti si convincono che siano cose vere no cominci a dire no ma lo dicono tutti e invece è tutta merda bisogna prendere confidenza con le rane dopo i babuini potresti fare i gamer high ticket su Twitch e monetizzi anche quando giochi eh no ma io quando gioco non lucro io quando gioco sto tranquillo devo lucrare lucro più problema senza proprio remora però no queste sono volte gioco faccio delle roba uuuuuh quello qui il piscuano otto ah no niente questo non è uno da battere signori 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 vabbè ragazzi col vostro permesso mi raccomando mancate i bonus non entrate che tanto è tutta roba banale continuate continuate a cercare perché molti di voi non investono cioè questa è la verità voi state lì a parlarne e dite no perché non è successo niente eh sì ma i tipi del clou che sono scomparsi si scherza ma non troppo no no si scherza ma non troppo eh non si scherza niente ehm eh eh sì dicono almeno quando esci fate un telefono vivi meglio fidati un consiglio spassionato stare di vita assoluta sì sì no no ma e lo voglio fare esattamente per quando esco hai ragione certo no no quello sì già il mio telefono è in modalità silenzioso spento le chiamate non entrano non ho le notifiche e niente ah un'altra cosa ragazzi mi capita sempre di più di eh incontrare persone eh anche eh studenti privati ok che cioè dichiarano di aver tolto le notifiche di eh di essere no ma perché io mi isolo eccetera e poi non è vero no eh anche alcune delle persone che sono venute qui a Dubai persone di successo eh però hanno le notifiche scusa ma ma perché quindi il cloaking ragazzi è così andrete molto lontano con quelle robe lì molto 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 allora bene sono entrati in una grotta devo affrontare i cattivi ok rannanera.com 800 303 666 non fate i barboni per 2 lire tra tirranna nera e spargete la voce spargete la voce quasi nessuno a 99 tutti a 3 47 quindi siamo molto 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 adorati arrivederci ecco